C'è una classifica, perché a me piacciono di una certa età, con un po' di panzetta e un po' di pelatina, per cui io non faccio testo. Allora, vediamo che c'è qualcuno che può assumire, ragazzi, il mio idolo, il Sean Connery, capisci? C'è qualcuno che può assumire, potrebbe essere il mio? Lui che viene in quadrata? Dov'è? Ah, là, com'è, com'è questo qua? Com'è? Eh beh, lui potrebbe, no, la pancia c'è, me la faccia vedere un attimo, poca roba, poca pancetta, però... Vediamo che da vicino venga, dall'uomo, venga, venga, come si chiama? Ireneo. Ireneo, ragazzi, Ireneo sei agile per salire, ce la facciamo? Nooo! Allora, Mara, com'è Ireneo? Tanto piacere, tanto piacere, molto interessante, devo dire, possiamo baciarci, ma no? E' bello. Grazie, lei è molto bello. Però, ragazzi, ragazzi, è qua... Più passa il tempo, capito? Ha detto più passa il tempo e più... Diventa bello. E' più diventa bello. E' vero, è vero. A me piace questo uomo un cofane, a me piace molto lui, che mi guarda.